Perchè questi pensieri, non è la solitudine, non vadiamo dentro la stazione? E su queste pareti non ci sono date, non l'uomo è fuori incrociato, sono gli adesivi sulle pareti, sono gli adesivi sulle pareti. E' il tempo che scorre lungo i bordi, sono gli adesivi sulle pareti, sono gli adesivi sulle pareti. E' il tempo che scorre lungo i bordi, è il tempo che scorre lungo i bordi. Ascolta, ogni cosa qui dentro aspetta un segnale, puoi leggerlo nelle linee della mano. E' il tempo che scorre lungo i bordi, è il tempo che scorre lungo i bordi. E' il tempo che scorre lungo i bordi, sono gli adesivi sulle pareti, sono gli adesivi sulle pareti. E' il tempo che scorre lungo i bordi, il tempo che scorre lungo i bordi. Siamo gli adesivi sulle pareti, siamo gli adesivi sulle pareti, siamo gli adesivi sulle pareti. Siamo gli adesivi sulle pareti, siamo gli adesivi sulle pareti, siamo gli adesivi sulle pareti. Siamo gli adesivi sulle pareti, siamo gli adesivi sulle pareti, siamo gli adesivi sulle pareti. Siamo gli adesivi sulle pareti, siamo gli adesivi sulle pareti, siamo gli adesivi sulle pareti.